Buonasera, buonasera, benvenuti anche oggi, linea d'ombra Lombardia, parliamo un po' di tutto quello che sta succedendo, anche perché c'è un collegamento ormai tra la politica nazionale e la politica lombarda, soprattutto dopo la conferenza stampa di Silvio Berlusconi, sabato pomeriggio, che ha un po' sparigliato le carte per quanto riguarda le alleanze future. Ma la prima parte di questa serata è dedicata a un'intervista con il Presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, buonasera Presidente, che è venuto a trovarci, ma anche con lei parleremo di questo, anzi partiamo proprio da questo perché non si può prescindere, poi ovviamente andiamo a parlare della situazione delle province che non si capisce ancora bene che fine faranno, Però partiamo da quello che è accaduto, anzi partiamo dal risultato elettorale in Sicilia, perché è un dato politico da cui poi ci muoviamo, perché il candidato del PDL ha avuto il 25%, il candidato grillino, anche se grillino non si può dire, 15,5% e la regione Sicilia è andata al candidato del PDL, alleato con l'Udc, che è Crocetta, che ha avuto quasi il 31%. I moderati, per così dire, si sono divisi, perché mi ci chiede una parte musumeci dall'altra, questo ha fatto sì che l'alleanza, diciamo la composizione vicina al PDL ha perso, questo è il risultato, anche se devo dire che il segretario del suo partito Alfano questa sera ha detto che è stato un risultato positivo in Sicilia. Io credo che non si possa non considerare che vi sono dei fattori di grande novità, io parto da Grillo, è inutile raccontarci cose che non siano vere, il risultato di 5 Stelle è un risultato che deve fare ragionare, perché quello che era un risultato pochi anni fa del 2% oggi si è quasi decuplicato. Il primo punto, c'è evidentemente una situazione di disagio nei partiti tradizionali a intercettare il pensiero, il consenso, le aspirazioni, le paure, le attese dei cittadini del nostro paese. Attenzione, siamo scesi sotto il 50% come persone che sono andate a votare. Certo, il 47% di votanti, quindi diciamo che il primo partito è quello stensionista purtroppo. È così, è così. Da un lato il fatto della stensione e dall'altro un voto di protesta come può essere quello dato a 5 Stelle. Sul fatto, lei lo sottolineava, che se il Popolo della Libertà avesse avuto quella unione che aveva avuto in passato, il risultato sarebbe stato vincente per noi. Quindi l'alleanza vince sempre, no? Questo è il concetto. E soprattutto il dividersi inevitabilmente fa perdere. E questa è la riprova. E questa è la riprova e questo però io vengo in Lombardia perché la puntata di questa sera lei sa che si chiama Linea d'Ombra Lombardia e io vorrei parlare di qua. Perché adesso l'argomento è andare uniti o divisi, Lega e PDL. Perché qua ci sono due scuole di pensiero, come lei ben sa. Sì, è anche forse inevitabile che ci siano due scuole di pensiero. Su tantissime cose credo che l'esperienza di governo in questi anni, prima anche a Palazzo Marino, fino all'altro giorno in Regione e per quanto può essere la mia testimonianza, in provincia di Milano il rapporto con la Lega è sempre stato un rapporto forte, un rapporto di stimolo reciproco e con dei risultati credo sicuramente positivi. Possono esservi valutazioni diverse sia in ambito nazionale sia in ambito europeo. E non si pensi... Albertini, che è il candidato in pector ad esempio di Formigoni, dice io punto al Partito Popolare Europeo, la Lega è da tutt'altra parte, ha tutt'altra posizione. Questo che lei sta dicendo, in Europa è legittimo essere divisi, qui no? Guardi, io sono stato tra coloro che trattarono col Partito Popolare Europeo... Poi lei l'Europa la conosce bene. Se Forza Italia potesse entrare, ho fatto 15 anni a Bruxelles, a Strasburgo, quindi la conosco bene. Noi abbiamo dei partiti che fanno parte del Partito Popolare Europeo e che magari a livello nazionale sono distanti. Penso Mastella una volta, Casini da una parte, ma anche i popolari italiani sono stati per tanti anni qui alleati con il centro-sinistra e su all'interno del Partito Popolare Europeo. Vi sono poi delle sintonie che devono essere verificate. Faccio un esempio per spiegarmi. L'appoggio al governo Monti è un appoggio che è stato dato da quasi tutti i gruppi, eccezione fatta per la Lega e per l'Italia dei Valori. L'appoggio a Monti, secondo me Monti, ha fatto molto bene in ambito europeo e in ambito internazionale. Lei sa da cosa sto per chiederle quando lei mi dice che Monti ha fatto bene in Europa? In Europa? Se lei mi legge nel pensiero sa quella è la mia prossima domanda. Io anzi le do un assist, la provoco. Ma credo che vi siano a volte delle posizioni acritiche rispetto a ciò che invece nel nostro territorio, in Lombardia, in Italia, è stato il risultato di un'azione di governo non sempre convincente. Anzi, in molti casi non convincente, in molti casi probabilmente troppo rivolta a una lettura europea di rigore e pochissima rivolta alla specificità delle nostre imprese, del nostro sistema economico, del nostro sistema bancario che è diverso rispetto a quello che invece è la realtà, non so, di una Germania ad esempio. Beh certo, c'è tutta una situazione completamente diversa. Il risultato di aver spinto molto in una direzione, pochissimo per quanto riguarda le necessità di imprese e di famiglie, ad esempio sui finanziamenti, oggi il sistema bancario non dà niente a nessuno e si rischia di morire di asfissia, è qualcosa che non si può non dire al governo, non portare all'attenzione di chi sta facendo queste scelte. Alcuni partiti l'hanno fatto in modo critico, altri partiti l'hanno fatto in modo acritico. Allora su queste evidentemente ci possono essere delle distonie. In compenso con la Lega noi abbiamo sicuramente una visione che ci accomuna ed è quella di contrastare un crescente centralismo nazionale, centralismo romano e comprendere che l'Italia è così diversificata che o adotta un sistema federale oppure non vi sarà mai la responsabilizzazione di chi governa nei vari territori. Fino a un anno fa eravamo tutti federalisti, adesso non è più nessuno. Anche perché il governo vuole modificare il titolo quinto, quindi se modifica il titolo quinto le regioni stesse perdono della loro autonomia. Ma che si possa anche ragionare sul fatto della modificazione di province, regioni, comuni, del corpo intero dello Stato, io credo che sia necessario. Ad esempio io continuerò a dire che le regioni devono avere un'attività di tipo legislativo, di indirizzo e controllo e non di tipo gestionale. Viceversa il 70% del bilancio regionale va alla sanità dove vi è un aspetto gestionale che dovrebbe, secondo la mia visione, invece andare sui livelli intermedio che quello delle province. Aspetti, dopo arriviamo alle province, le teniamo in fondo perché io volevo approfondire due cose. La Lega, Formigoni ce l'ha un po' su con la Lega, devo dire che è la Lega che l'ha fatto cadere. Quindi insomma come si fa a ricomporre un'alleanza che è caduta proprio a causa di uno di queste due componenti? Ma siamo sicuri che sia stata la Lega a far cadere il governo regionale? Dopo l'arresto di Zambetti è la Lega che ha creato il problema. Può essere stata una situazione che via via si è evoluta in un certo modo. Io credo però che tra Formigoni e la Lega, tra il Popolo della Libertà e la Lega soprattutto, vi siano ambiti di collegamento, di condivisione di obiettivi che non devono essere assolutamente trascurati. Anche perché se noi in Lombardia andassimo divisi come qualcuno propone, ad esempio mi sembra di aver capito dalle parole del mio amico Gabriele Albertini che lui è tra questi. Non ci vuole andare con la Lega, almeno fino a stasera era così. Non vorrei che si riverificasse quello che è successo oggi in Sicilia. Quindi andando separati poi non lamentiamoci se non si vince. Ma Albertini le piacerebbe come candidato? Guardi, io ho sempre detto che stimo Gabriele Albertini, secondo me è un ottimo candidato che noi possiamo presentare. Però ho invitato Albertini a leggere con attenzione quelli che sono i numeri che esprimono il consenso dei nostri cittadini in Lombardia. Però lui al contrario, lui ribalta, Albertini dice i numeri sono questi, è vero, ma la base del PDL non vuole la Lega, la base della Lega non vuole il PDL. Lui dà altri numeri. Guardi, guardi, sul fatto che poi ci possano essere degli atteggiamenti di rifiuto, sì, ma allora la base del PDL vuole ad esempio unirsi o trovare un collegamento con Renzi o Renzi sta assorbendo quella parte del PDL che si è sentita delusi in questi anni? Cioè ci sono molte interpretazioni. Renzi è candidato del PD, è candidato alle primarie nel PD e quindi quello che potrebbe anche essere nel caso è anche là una separazione, uno strappo. Ricordiamoci che vi sono anche all'interno del PD talmente anime diverse. Ah no, no, ma è vero, sulle primarie del PD sembra quasi uno scontro tra due avversari, avviene oltre a due esponenti dello stesso partito. È uno scontro tra due soggetti, uno rimproverà l'altro di come sono state fatte le regole. Scontro durissimo tra loro due. È come un magma che sta crescendo dal punto di vista della temperatura, arriverà una nuova cristallizzazione e ci ritroveremo in una situazione diversa. Io credo però, che parlo della Lombardia in questo momento, che si debba garantire una buona governabilità. Oggi i risultati della Sicilia ci dicono che, al di là del risultato che indica un vincitore, però la governabilità non è assolutamente garantita. No, no, anche perché il Movimento 5 Stelle è il primo partito. Sarà molto difficile comporre adesso la maggioranza di governo in Sicilia. Ma perché dopo le elezioni uno deve pensare al bene del territorio, dei cittadini. E secondo lei il bene del territorio lombardo è dato, cioè quest'unione tra Lega e PDL, secondo lei garantirebbe il bene del territorio lombardo? L'ha garantito per più di 15 anni. Lei è soddisfatto il governo Formigoni? Io credo che si possa fare tutta una serie di ragionamenti sull'attività di governo di Formigoni, delle sue giunte, ma è innegabile che in tantissimi ambiti la regione di Lombardia è ai livelli più alti in campo europeo nell'interesse dei cittadini. Questo è innegabile. Sono dati, credo, inconfutabili. Che voto darebbe all'amministrazione di Formigoni? Un numero? Otto e mezzo? Otto e mezzo. Perdoni, credo che veramente se lei la paragona non alle altre regioni italiane, ma alle altre grandi regioni europee, la Lombardia è arrivata in tantissimi ambiti a un livello di assoluta eccellenza. Poi vi sono altri ambiti nei quali si può migliorare e magari anche intervenire in maniera molto dura. Infatti, ad esempio, volevo chiederle cosa ne pensa dei 15 indagati che ci sono in Lombardia. Me lo dici dopo la pubblicità. Volentieri. Alta i ladri! La sicurezza non è più un lusso! Ferrinox presenta Eco3. L'esclusivo cancelletto di sicurezza per la vostra casa, robusto, sicuro, inattaccabile, certificato in classe 3 anti-effrazione. Eco3 è sicuro! Questo nuovo sistema brevettato impedisce lo scasso. I malintenzionati non hanno alcuna possibilità di fare leva sulla struttura. Lo spazio tra il telaio e le barre orizzontali è talmente ampio che nemmeno un piede di porco riuscirebbe a forzare questo rivoluzionario cancelletto. Eco3 è snello! L'unico ad avere l'anta senza tubolare perimetrale garantisce la massima sicurezza senza ostacolare in modo eccessivo il passaggio della luce. Eco3 è pratico! Caratterizzato da un particolare snodo brevettato permette di piegare e ruotare l'anta che si sovrappone alla persiana. Si può aprire anche internamente, così potete chiudere le persiane esterne senza complicazioni. Eco3 è preciso! Il telaio perimetrale è dotato di compensatori che proteggono i punti di fissaggio e aderiscono al muro anche quando questi non sono perfettamente allineati. Eco3 è resistente! Dotato di una serratura con una corsa di scorrimento di ben 25 mm, ben il 70% in più delle serrature convenzionali, chiude in profondità e rende molto più difficoltosa la forzatura di tutti i punti di chiusura. Eco3 è semplice! Tutte le serrature sono unificate con la stessa chiave. Eco3 è bello! Si può realizzare ad una o due ante con o senza borchie. Interamente costruito con materiale zincato e verniciato con polveri epossidiche in molteplici e gradevoli colorazioni, questo speciale trattamento garantisce una lunghissima durata nel tempo. La gradevole estetica di Eco3 evita di farvi sentire in prigione a casa vostra. Vi difenderà anche dalle zanzare! Eco3 può essere costruito con zanzariera incorporata in uno spazio ridottissimo, solo 70 mm. Il prezzo? Davvero interessante e conveniente! Avere un cancelletto Eco3 non è più un lusso. Il costo è pari ad un tradizionale cancelletto di costruzione artigianale, non certificato e privo di garanzia. Contattateci! Contattateci al numero in sovraimpressione, oppure venite a trovarci nei nostri showroom. Vi renderete conto che da oggi con Ferrinox la qualità e la sicurezza non sono più un lusso. Eco3 fa la differenza! Allora, rieccoci sempre con il Presidente della provincia di Milano. Qui dopo Destà stavamo parlando della situazione lombarda. Il Consiglio regionale Lombardo si è sciolto dopo che la Lega se n'è andata, se n'è andata dopo l'arresto di Zambetti. In realtà però c'erano altri problemi giudiziari. In Lombardia ci sono 15 persone indagate. Questo secondo lei era un problema o no? Innanzitutto so che non avrò il consenso di tantissimi, io sono e resterò sempre garantista. Mi hanno insegnato a scuola che fino a che non è passato in giudicato l'ultimo livello di giudizio una persona è non colpevole. Adesso mi sembra che la stessa carta costituzionale divenga in alcuni casi carta straccia e quindi può anche darsi che l'idea generale sia diversa. Io ritengo che nel giudizio politico che deve essere dato a un'azione di amministrazione che è durata più di 17 anni si debba dare quel tipo di giudizio. Poi se vi sono delle responsabilità la magistratura è qui per questo. Cioè non deve rientrare nel giudizio politico secondo lei? Sono due cose diverse, perdoni. Anche perché posso fare un esempio, mi viene in mente in questo momento. Il governatore della Banca d'Italia, Fazio, sembrava responsabile di non so quali nefandezze e poi è risultato essere del tutto estraneo. Vabbè abbiamo le storie del turco dall'altra parte. Il ministro Fitto, sei anni, quindi senza voler inficciare il lavoro della magistratura, lo ripeto, però fino a che non vi è una sentenza passata in giudicato, permettetemi. Io sono e resterò sempre garantista. Quindi non accetto se posso i tribunali mediatici, i giudizi mediatici. Non mi sembra che debba essere questo il tipo di approccio che noi dobbiamo dare soprattutto se vogliamo avere coerenza rispetto alla chiave europea. Io sono d'accordo sul fatto che chi ci governa non deve essere scelto dalle procure, ci mancherebbe. Perché questo sarebbe una norma di non democrazia. Ovviamente scelto dai cittadini. Esatto, però è un fatto. Magari parliamo di legge elettorale. Però è un fatto. No, perché volevo fare le altre due domande. Quando Berlusconi ha parlato sabato, abbiamo visto un Berlusconi arrabbiato con l'Europa, arrabbiato anche con Monti, perché ha parlato anche a dell'ipotesi di togliergli la fiducia. Una buona parte del PDL sembra invece pensarla diversamente, no? Perché penso a Formigoni, a Frattini, allo stesso Alfano, che questa sera ha detto non ci pensiamo nemmeno a togliere la fiducia a Monti. Allora, ci sono due PDL o quello che abbiamo visto Berlusconi sabato è un uomo ormai al capolimia politico che non conta più? Io do un'interpretazione diversa. Una terza interpretazione. Ed è che, lo dicevo prima, l'appoggio a Monti, che io credo nell'interesse generale oggi debba continuare, però poi dico anche per quanto tempo, se posso rubare un minuto. No, no, lo dica subito, non fino ad aprile. Credo che l'appoggio a Monti debba essere però non a critico. Cosa vuol dire? Il PDL ha votato la fiducia in tutti i passaggi che vi sono stati in questi più di 12 mesi. Quindi mi sembra che ci sia stata una coerenza su questo. Alcuni passaggi però non è che non si possono non giudicare sbagliati, impropri. Ma lo sta facendo anche Bersani, no? Dall'altra parte. Lo fanno anche dall'altra parte. Può anche perché è iniziata un po' la campagna elettorale. Il punto sul quale io dico fino a quando bisogna pensare di portare avanti questo tipo di governo. Io ho avuto occasione di parlarne con Mario Monti quando c'è stato all'esequie del Cardinal Martini. Ci siamo incontrati per un problema di patto di stabilità della provincia di Milano. E proprio su questo tipo di domanda io risposi che ritengo che un periodo di campagna elettorale di 6, 7, 8 mesi sia qualcosa che sfibra il Paese. Allora, siccome ormai siamo in pieno clima elettorale, abbiamo un quarto dei cittadini italiani, cioè gli abitanti del Lazio, gli abitanti della Lombardia, 15 milioni su 60, che vanno al voto. Io dico unifichiamo questi due momenti elettorali probabilmente accorciando quello che è una scadenza. Quindi invece di votare ad aprile votiamo tipo a febbraio? Io direi fine febbraio, inizio marzo. Per due mesi, però tutti insieme così c'è il risparmio. Tutti insieme non buttiamo via dei soldi in elezioni diverse perché anche queste poi costano. Un quarto degli italiani vanno al rinnovo della loro regione. Ecco, secondo me accorparli non sarà. Facciamo un election day. A proposito di costi, allora, sembra definita la situazione delle province. In Lombardia da 12 dovrebbero diventare 7. C'è diversi accorpamenti, ad esempio Como Varese e Monza verrebbero unite, Lodi, Mantovano e Cremona e anche Sondro e Lecco. Milano dovrebbe diventare città metropolitana. Lei ha ribadito più volte, questo devo dire che mi ha colpito, perché lei ribadisce più volte, sì sì tagliamo pure, però guardate che non c'è nessun risparmio. Non lo dico io, lo dice la spending review, cioè la legge stessa, lo dice il centro studi del Senato, lo dice lo studio della Bocconi, per cui la razionalizzazione secondo me è assolutamente da seguire, eliminare quelle province che erano proliferate. Sì, ultimamente sono d'accordo con lei, c'è stato un proliferare di province. Ma attenzione che i due parametri indicati dal governo e dal Parlamento che ha approvato questa legge, che sono soltanto il numero degli abitanti e l'estensione territoriale, sono due parametri che non solo non danno misura dell'identità di un territorio, ma della compatibilità sociale e economica di un territorio. Sono due parametri che sono avvulsi da una realtà, faccio un esempio, Como e Varese, 1 milione e 600, 1 milione e 700 mila abitanti, gli mancano 14 o 12 chilometri quadrati di estensione. Nello stesso momento abbiamo delle regioni, penso al Molise, dove con meno di 400 mila abitanti sia la regione e la provincia. Allora, non basta, non c'è il criterio, non vi è criterio e quando dico bisogna essere anche critici rispetto a ciò che sul territorio, questo governo con l'appoggio del Parlamento di quasi tutte le forze politiche ha portato avanti in questi mesi, è nell'interesse del territorio, nell'interesse dei cittadini, non è diversamente pensato. Anche se poi sa, la vulgata è quella che dice, beh, dicono di tagliare e poi non tagliano mai, oppure tagliano poco. No, questo è quello, non sto dicendo che è giusto o che è sbagliato, sto dicendo che poi la gente dice quello, no? La vulgata deriva il più delle volte da un'informazione impropria. Si partì dicendo che se abolivamo le province si risparmiavano prima 20 miliardi, poi 12, poi 3. Sì, io mi ricordo 12. Ah, 12? Il 12 è il costo di tutte le province italiane, ma le scuole le vogliamo riscaldare o no? Le strade le vogliamo mettere a posto o no? Le persone che perdono il lavoro le vogliamo riqualificare professionalmente o no? Tutti i temi dell'ambiente, il trasporto pubblico e locale, ma secondo voi eliminando le province quei costi non ci sono, rischiano di crescere. Ed è ciò che dice il Centro Studi del Senato e lo studio della Bocconi. Poi noi abbiamo province che hanno raggiunto un'efficienza veramente importante e altre che non l'hanno fatto per niente. I tagli lineari che il governo sta dando a tutte le province porterà nelle nostre province che sono efficienti a far diminuire i servizi ai cittadini. In quelle che non hanno fatto nessuna azione per diventare efficienti invece c'è grande spazio e continueremo a vedere che chi non merita viene premiato e chi merita viene bastonato. E quindi visto che parlavamo di voti, lei ha questa manovra sulle province che voto da? Guardi, io do un tre. Cioè proprio bocciata assolutamente. Ma si può, si deve rimodulare tutto il corpo dello Stato, si può anche partire dalle province, basta non fermarsi a queste, basta avere però la logica di comprendere che da un lato è giusto accorpare province, piccoli comuni, regioni, ognuno nella propria dimensione. Ma il dimagrimento vero della macchina dello Stato... E quindi il risparmio, perché dobbiamo dire al risparmio vero. E il risparmio vero, lo si ha sia dal punto di vista del risparmio possibile su province, regioni e comuni, ma tantissimo sul corpo dello Stato. E i costi non apparenti... C'è il taglio della spesa pubblica. Esatto, i costi non apparenti che gravano sulle famiglie e sulle imprese derivano fondamentalmente da una legislazione contraddittoria che continua a generarsi, quindi il legislatore, quindi il Parlamento, e da una burocrazia che, lasciatemi dire, nel nostro Paese nonostante tutto è ancora soffocante. Questi due elementi uniti a una ristrutturazione della realtà dello Stato, nella sua interezza, possono portare il Paese a ridecollare. Siamo in chiusura. Le volevo chiedere una domanda con risposta a Flash. Sulla legge elettorale, altro punto che è fermo in Parlamento, preferenze sì, preferenze no, perché sembrava che le preferenze fossero la panacea di tutti i mali. Quando si è scoperto che Fiorito nel Lazio ne aveva 31 mila, mi sembra, un numero spropositato, allora... Il caso di Zambetti è venuto fuori proprio per le preferenze e con i voti comprati, questo dice l'accusa, e allora viene... Sono molto diretto. Allora, le preferenze vogliono dire per il cittadino la proprietà di esprimere una propria scelta su chi deve rappresentarlo. Però le preferenze va a finire che costano talmente tanti soldi che poi generano delle situazioni che sono o di non democrazia, perché non solo i cittadini ricchi devono poter partecipare, oppure di malaffare. Questi sono i due rischi. Colleggi piccoli, collegi nei quali io cittadino posso conoscere, misurare la persona, le sue idee, e anche se poi chi rappresenterà il mio territorio non sarà della mia parte politica. So chi è. So chi è. Vado a chiedergli perché... Però Presidente, io sono d'accordo con lei, ma perché non lo fanno? Io non mi credo che ci sono in Parlamento. No, ma sa cosa, quando io faccio questa domanda ai suoi colleghi del Parlamento, mi dicono tutti, ma sì, ci vogliono i collegi, magari i piccoli. Poi non lo fanno, ma poi non lo fanno. Il mio con lei è una protesta che faccio con lei, è chiaro, lei non è in Parlamento, però è assurdo. Perdoni, ma sa a chi va bene così? Ha le segretarie dei partiti. Perché nominano loro. Perché nominano loro. Ma questo, indifferentemente, io credo che nell'interesse invece del cittadino, di tutti noi, siamo cittadini. Allora, dei collegi piccoli sono probabilmente la formula migliore che noi possiamo adottare. Va bene, io la terrei ancora qui a lungo, ma ho gli altri ospiti che scalpitano dietro la porta. Però, se vuole, facciamo tra qualche tempo, possiamo fare un altro incontro qui a te, no? Basta che lei è sempre benvenuto. Va bene. Grazie Presidente, in bocca al lupo per tutti. Andrà a votare alle primarie il 16 dicembre, il primario del PDL, penso che sarà lì a votare. Quelle del PD sono un po' più complicate, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Inizia il talk e ci sono tutti gli altri ospiti. Grazie Presidente, ci veniamo tra tre minuti.